che banda di falsi mamma mia ritorneremo ovunque saremo ovunque su tik tok stiamo facendo grandi cose e su youtube ne faremo ancora più grandi e presto ovunque cosa da rosicare cosa da rosicare ma sapete quanti soldi ho preso in questo periodo che sto così sapete quanti soldi ancora devo prendere mi devono arrivare non lo sapete forse non vi è chiaro attualmente non potete farmi nulla attualmente non ho più alcuna paura di voi cari haters capito attualmente faccio vedere io nel presente due anni che mi avete fatto se io ora aspettatevi la mia reazione differenza vostra differenza di tutti questi personaggi del web io non andrò a incitare odio ma ne andrò solo a percolare dappertutto ovunque i percolerò ovunque su tik tok su youtube su instagram ovunque li farò fare da mente di quelle brutte figure che che dovranno scrivermi in privato pietà per favore capito non sono una bella bionda forse per questo perché forse non sono una bella bionda ma cosa ha fatto ha mostrato ha mostrato in live le sue forme e poi si è sorpresa voleva mostrare a mezzo a mezzo twitch e web italia che che le avesse bene si è riuscita alle ai l'abbiamo viste non ti preoccupare ce l'hai ce l'hai sei tranquilla che ce l'hai problema che non ce l'hai solo tu capito quale problema problema che non ce l'hai solo tu forse non ti è chiaro il problema che non ce l'hai solo tu capito il problema è che non ce l'hai solo tu e ad ora vi dico una cosa avete presente tutti quegli anni che mi avete fatto passare a piangere e a dire ma perché cosa ho fatto di male bene ad oggi non lo dico più ad oggi vi perculo direttamente se è finito tu antonio e gente come te voi siete finiti riccardo rosario non finirà mai perché dopo due anni dopo che l'avete passato sopra strapassato sopra come come non so cosa senza alcuna pietà io sono qui e ora sono indistruttibile sapete perché perché ora non ho più paura di nessuno non ho più niente da da nessuno sono solo contro tutto e tutti e ho talmente di cui social ovunque che se succede qualcosa un momento una pausa un bago qualsiasi cosa a uno ce ne sono altri sei lo stavo riccardo non finirà mai capito io non finirò mai a differenza vostra che voi non sarete neanche ricordati della vostra la vostra sorella capito capito ricordatevelo sempre sempre per sempre c'è qualcuno che mi vuole dire qualcosa prego venga là qual è il problema pensate che abbia paura di voi pensate che abbia paura di voi non siete nulla non siete nulla per me non siete più nulla per me capito famiglia sempre la famiglia ci sono ci sarò sempre per tutti per il resto non siete più nessuno per me non siete più nulla non vi leggo neanche vi considero siete il nulla più totale io per piangere live mi avete fatto stare quasi una settimana così per piangere live gaia e tanti altri streamer che dicono cose bannabili gravissime non succede nulla perché una bella bionda va giù tanto veni live a dimmelo veni live a dimmelo fai l'uomo dai vieni live vieni live vuoi fare l'uomo vieni live vieni fai l'uomo vieni live